Ultimo punto e qui si va sul delicato, beh anche prima eravamo sul delicato però io la dico così, continuità. Che vuol dire continuità? Vuol dire che noi non possiamo avere un'azione educativa spezzettata tra supplenti, controsupplenti, supplentite varie e dintorni. Ecco perché questo governo sceglie di assumere solo quest'anno più di 100.000 persone che avevano acquisito il diritto ad essere assunte e a cui lo Stato non aveva mantenuto la parola perché non le aveva assunte, sono una parte dei precari, i precari sono di più, ma sono quelli delle gradatorie a esaurimento, quelli che hanno un titolo avendo vinto un concorso le scuole di specializzazione. Continuità significa che assumendo più persone con il cosiddetto organico funzionale la scuola italiana funzionerà con una stabilità educativa e non con un meccanismo in cui ogni tre mesi bisogna rincorrere uno spezzone d'orario e si forma una generazione di precari che è frustrata perché anziché avere il fuoco sacro dell'insegnamento è costretta a leggersi tutte le norme, a guardare le graduatorie, a perdere le proprie ore dietro le trafile burocratiche.